La vita è un'avventura, è una sfida, non è fatta per stare fermi e al sicuro. Se qualcuno vuole continuare a creare, deve essere pronto a cambiare. E questo è quello che diceva Miles Davis, e io vi consiglio di andare a vedere il documentario su Miles Davis e su Netflix, anche se non vi piace il jazz, vi fa capire cos'è veramente un artista. Detto ciò, siamo qui, nella prima puntata del podcast di Whatsapp Economy. Ora, in realtà dovrebbe partire una sigla che sfamerebbe il mio egocentrismo, ma per quello c'è il canale Instagram Giorgio.de Marco. Invece qui faremo partire, d'ora in poi, una lista dei temi che verranno trattati in queste puntate con relativo minutaggio. In tal modo, se qualche argomento non vi interessa, potete tranquillamente schipparlo. Così siamo tutti contenti. Iniziamo. In questa puntata parleremo di Cashback di Stato, al minuto 1,28. Parleremo di MES, al minuto 14. Patrimoniale, al minuto 19,30. Parleremo anche di Gender Pay Gap e Rettrici Universitarie, al minuto 25,15. Parleremo dei nuovi record della Borsa, al minuto 27,20. BCE e titoli di Stato, al minuto 29,25. Previsioni Istat, al minuto 31,46. Ed infine parleremo anche di multinazionali che collaborano con il fisco. Al minuto 32,38. Per Cashback di Stato si intende la possibilità che avranno i cittadini di godere di un vero e proprio rimborso nel caso in cui andranno a pagare presso un negozio fisico tramite delle app digitali o dei metodi di pagamento digitali. Questo cashless di Stato fa parte in realtà di un piano molto più grande inideato dal governo che viene chiamato Italia Cashless, che ha proprio l'obiettivo quello di incentivare l'utilizzo degli pagamenti digitali. Ad esempio, tra le varie idee all'interno di questo piano Italia Cashless, c'è quello della riduzione all'utilizzo del contante da un tetto massimo di 2.000 euro a abbassarlo a 1.000 euro, ma tante altre cose, tra cui per l'appunto questo cashless. Ora, prima di andare a vedere effettivamente quali potrebbero essere gli impatti macroeconomici di questa nuova misura, andiamo a capire come intascarci questo bottino. Il cashback di Stato dovrà entrare in vigore l'8 dicembre 2020 e scadere la sua fase sperimentale il 31 dicembre 2020, per poi entrare in vigore il 1 gennaio 2021 in maniera ufficiale. Il rimborso massimo che potremo ottenere tramite questa prima sperimentazione che va dall'8 dicembre al 31 dicembre 2020 sarà di al massimo 150 euro. Per ottenere questo rimborso bisogna seguire quattro semplici passi. Il primo è avere una Speed, un sistema pubblico di identità digitale. Nel caso noi non ce l'abbiamo, basta andare sul sito speed.gov.it per ottenere tutte le informazioni necessarie per per l'appunto ottenere questa identità digitale, oppure avere una carta di identità elettronica. Il secondo passaggio è quello di scaricare la Pio, che è un'applicazione per i servizi pubblici ormai abbastanza rodata. Alcuni su Instagram mi hanno chiesto se c'è da fidarsi dello Stato e di dare le proprie informazioni a delle applicazioni gestite dallo Stato. Beh, ormai la direzione fondamentalmente sarà quella e comunque la Pio è abbastanza rodata anche se ultimamente sta riscontrando dei problemi. Ma comunque non dovrebbero esserci particolari preoccupazioni, anche perché la strada sta andando verso quella digitalizzazione di tutto l'apparato burocratico e quindi a meno che non si voglia rimanere fuori dal mondo in modo o nell'altro bisogna in qualche modo fidarsi della giusta manutenzione dei propri dati da parte dello Stato. Una volta scaricata la Pio, il terzo passo da fare è abilitare le proprie carte di credito o i propri metodi di pagamento digitali. Bisognerà mettere gli estremi delle proprie carte di credito o Bancomat aggiungendo il codice IBAN. In tal modo potranno essere riconosciuti tutti i pagamenti effettuati presso i rivenditori fisici. Altra condizione per poter accedere al rimborso. Infatti se si acquista da Amazon non si avrà diritto a un rimborso. Il quarto passaggio è effettuare almeno 10 acquisti presso i negozi fisici. Infatti ogni acquisto ci darà diritto al rimborso del 10% della somma spesa per un massimo di 15€ ad ogni acquisto. Quindi non pensiamo di ricevere 150€ indietro dopo un acquisto di 1500€ perché anche dopo un acquisto di 1500€ il rimborso sarà sempre di 15€. E quindi per accedere al rimborso dovremo fare almeno 10 acquisti e il tetto massimo del rimborso sarà di 150€. Almeno in questa prima fase sperimentale. Dopo questa prima fase sperimentale le cose cambieranno un po'. Infatti dal 1 gennaio 2021 gli acquisti minimi per poter accedere al rimborso non saranno più di 10 acquisti al mese ma di 50 acquisti a semestre. Anche il rimborso sarà sì di 150€ ma non più al mese come nella fase sperimentale ma di 150€ a semestre. In questo modo il rimborso totale che si potrà ottenere in un anno sarà di 300€ e ci sarà comunque ancora valida la regola del 10% per ogni acquisto di rimborso e anche il rimborso massimo di 15€ ad ogni transazione. In più per i primi 100.000 cittadini che effettueranno il maggior numero di transazioni elettroniche in un anno ci sarà un ulteriore premio di 3.000€. Tutti gli importi non saranno oggetto di tassazione quindi sono degli importi netti. Inoltre dal 1 gennaio 2021 scatterà la lotteria degli scontrini. Sarebbe un gioco esclusivo solo per i maggiorenni per cui ad ogni acquisto effettuato tramite i negozi fisici verrà ottenuto un biglietto per ogni euro speso. Per ottenere questo biglietto bisognerà mostrare all'esercente il proprio codice lotteria. Questo codice lotteria bisognerà ottenerlo tramite il sito lotteria degli scontrini.gov.it Ma di questo magari ci occuperemo prossimamente quando effettivamente entrerà in vigore la norma. Detto ciò direi di passare al lato macroeconomico e chiederci se effettivamente questi strumenti funzioneranno per gli scopi ideati dal governo e cioè quello di contrastare l'evasione fiscale è quello di aumentare l'utilizzo dei pagamenti digitali all'interno dell'economia. E quindi tutto ciò riuscirà a combattere questi annosi problemi riguardo l'evasione fiscale e la digitalizzazione dei pagamenti? La risposta è non lo sappiamo. Infatti ci sono stati altri stati in passato che hanno introdotto queste misure proprio per ad esempio combattere l'evasione fiscale. E ci sono stati alcuni paesi che sono riusciti a far funzionare queste misure e altri invece che non sono riusciti a farle funzionare. Sto parlando ad esempio del Portogallo della Cina. Ad esempio nel Portogallo nel giro di pochi anni sono riusciti a raddoppiare il numero di scontrini emessi da parte dei contribuenti. Dall'altra parte invece, ad esempio nella Slovacchia o nel Brasile il gettito guadagnato da questi incentivi non è riuscito a ricompensare i costi organizzativi e di rimborso nei confronti dei cittadini. Questo perché? Perché sostanzialmente queste misure tramite ad esempio il cashback o la lotteria sono dei veri e propri nudge, delle spinte gentili, degli incentivi nei confronti dei contribuenti. Il punto è chiedersi se questi incentivi bastano per rompere un'abitudine sociale come quella di utilizzare il contante oppure quella di evadere. E purtroppo noi non abbiamo effettivamente un importo monetario che possiamo attribuire a questa abitudine sociale. E quindi ci sarà da vedere se gli importi decisi dal governo come ad esempio quello di 300 euro all'anno bastano ad incentivare le persone ad utilizzare i pagamenti digitali e a chiedere al tabaccaio o all'estetista lo scontrino. Sì, sono l'idraulico, c'è questa fattura da pagare, sono 150 euro. Sì, sì, sto arrivando, finisco questa cosa e arrivo con i miei 150 euro. Ah, per caso il banco, Matt? Guardi, facciamo 100 euro senza fattura e tutto in contante, le va bene? Sì, dai, va bene, facciamo 100 euro, Matti, sì, dai, risparmiamo entrambi, perché no? Come avete visto dall'esempio, il punto dell'evasione è che nel momento in cui si evade entrambe le parti hanno lo stesso interesse a ricevere un guadagno da quell'operazione che è per l'appunto l'evasione. E quindi l'obiettivo del governo è quello di far deviare gli interessi e quindi affinché la contrattazione attraverso l'evasione non avvenga. Da una parte introducendo delle detrazioni fiscali da parte dell'esercente che in questo episodio non abbiamo approfondito. Dall'altra parte, deviando gli interessi del cittadino, non accordandosi con l'esercente ma richiedendo lo scontrino o il pagamento digitale, proprio introducendo un rimborso se il cittadino fa quel tipo di scelta oppure introducendo una speranza nel cittadino di vincere un importo tramite per l'appunto la lotteria. Ma nel deviare questi interessi per l'appunto c'è sempre un discorso di costi-benefici e come abbiamo già detto ci sarà da vedere se effettivamente i benefici tramite che ha introdotto il governo saranno sufficienti per far deviare gli interessi di entrambi i cittadini che vanno a contrattare una transazione economica. Ma guardando gli esempi degli altri paesi, come ad esempio il Brasile o la Slovacchia che sono dei paesi che hanno avuto un'esperienza parlamentare da questa lotteria o magari da altri paesi che hanno avuto delle esperienze più positive come ad esempio la Cina o il Portogallo, possiamo estrapolare alcune conclusioni affinché questo metodo di incentivazione sia il più efficace possibile. Il primo è la facilità di accedere a questi strumenti e come abbiamo visto è abbastanza semplice accedere effettivamente a questi tipi di benefici. Il secondo caso che potrebbe aiutare a rendere più efficace questa misura è quello di aumentare gli incentivi nelle classi in cui effettivamente l'evasione è un problema. Ad esempio per le multinazionali l'evasione non è un effettivo problema e quindi non c'è bisogno di incentivo affinché queste multinazionali non evadano. Lo stesso discorso riguarda ad esempio i pagamenti digitali. Non credo che un cittadino milanese abbia un qualche tipo di bisogno di incentivo affinché richieda un pagamento digitale perché ormai Milano è la città più digitalizzata d'Italia e quindi questi tipi di incentivi non hanno sostanzialmente alcun effetto riguardo molto spesso riguardo le abitudini del consumatore. Discorso contrario ad esempio se andiamo al sud, se andiamo in Sicilia, se andiamo in Puglia, in Campania eccetera eccetera. In quei contesti l'evasione fiscale è molto più alta e quindi ci deve essere l'incentivo sarà molto più efficace ma allo stesso tempo, visto che l'apitudine sociale è molto più radicata all'interno della popolazione di conseguenza l'incentivo dovrà essere molto maggiore ad esempio rispetto agli incentivi che potrebbero essere erogati in Piemonte, Lombardia o Emilia Romagna. E quindi tutto il discorso sostanzialmente è un discorso di costi benefici. Più l'abitudine sociale deve evadere è insida nella popolazione e più l'incentivo deve essere maggiore proprio per rompere questa abitudine. Ovviamente come sappiamo l'evasione è molto più frequente al sud rispetto al nord. Quindi sostanzialmente staremo a vedere e capire se effettivamente questo tipo di incentivi sarà efficace o meno. Diciamo che il costo per il 2021 e il 2022 che si prospette il governo sarà pari a 1,75 miliardi per il 2021 e di 3 miliardi per il 2022. Prima di passare alla prossima notizia vorrei esaminare un ultimo aspetto riguardo questa storia del cashback, della lotteria e del nudge, degli incentivi. Tra l'altro se volete approfondire di più questo aspetto del nudge vi consiglio il libro di Taller e Sunstein La spinta gentile. Molto spesso si parla di questa spinta gentile con un'accezione positiva perché effettivamente induce le persone a fare qualcosa che normalmente non farebbero. Il lato nascosto però di questo nudge è che molto spesso rientra anche un aspetto etico del nudge. Infatti se ad esempio per noi una determinata azione può considerarsi giusta e quindi facciamo in modo che tramite degli incentivi che quella persona faccia quell'azione non è detto che sia d'accordo la persona che è influenzata da questo nudge. Ad esempio è giusto che lo stato introduca un vero e proprio gioco d'azzardo perché la lotteria è un vero e proprio gioco d'azzardo per incentivare un determinato tipo d'azione che magari può essere anche accettabile e conveniente per il progresso dell'economia. Ma sostanzialmente c'è lo stato come ad esempio vabbè non è la prima volta perché poi si parla anche del superenalotto eccetera eccetera però effettivamente molto spesso non si parla degli aspetti negativi del nudge e cioè tutto l'aspetto etico se sia giusto effettivamente che lo stato introduca un vero e proprio gioco d'azzardo per incentivare le persone a fare qualcosa oppure ancora spingere le persone ad acquistare più del dovuto magari proprio per accaparrarsi l'extra cashback di 3000 euro per i primi 100.000 consumatori che hanno utilizzato di più i metodi di pagamento. Sono tutti gli incentivi che magari sì è vero portano a un fine giusto però inducono anche le persone a comportarsi in una maniera spregiudicata molto spesso o che comunque dal punto di vista etico molte persone non sarebbero d'accordo diciamo. Niente, dopo questa ultima considerazione passiamo alla prossima notizia. E ora invece parliamo di mess ma aspettate un attimo siamo per caso ritornate a settembre 2019? Perché effettivamente sembrerebbe proprio di sì infatti la riforma del mess di cui si è tanto discusso nella fine del 2019 tra l'altro se volete approfondire avete completamente saltato queste notizie e tutto il discorso sul mess ho fatto dei video sul canale che vi consiglio di andare a riprendere perché sono purtroppo attuali perché sostanzialmente non è cambiato nulla. In realtà la riforma del mess doveva essere approvata tra febbraio e marzo del 2020 però poi è successo qualcosa che viene chiamato coronavirus e quindi si è posticipato questa riforma che è stata discussa nell'Eurogruppo questa settimana e dovrà essere approvata dal Parlamento italiano il 9 dicembre. Come vi dicevo sostanzialmente la riforma del mess è rimasta uguale a quella precedente con un'unica eccezione e cioè il tanto famoso backstop sulle banche Cos'è il backstop? Partiamo dall'inizio dovete sapere che le banche possono fallire l'abbiamo imparato molto bene nella crisi del 2008 ad esempio Allora per evitare lo spargersi delle crisi finanziarie da una banca all'altra si è stato ideato dopo la crisi del 2008 un fondo che si chiama SRF Questo fondo serve proprio per ripianare eventuali perdite di banche entrate in crisi e questo fondo è costituito dalle stesse banche che accantonano una parte dei ricavi proprio per evitare che si diffonda un'ulteriore crisi finanziaria da una banca all'altra e che tutto il sistema finanziario collassi Oltre a questo il MES è intervenuto per dare supporto a questo SRF tramite per l'appunto questo backstop che sarebbe un paracadute viene detto molto spesso Praticamente il MES può dare una linea di credito a questo SFR nel caso i soldi non bastassero per salvare le banche in difficoltà sarebbero sostanzialmente un prestito e questo dà una spinta all'Unione bancaria europea tema molto importante che ancora non si è riusciti a implementare del tutto riguardo questo concetto del backstop nella riforma del 2019 doveva essere introdotto alla fine del 2023 mentre in questo caso con la nuova approvazione verrà introdotto all'inizio del 2022 quindi praticamente si è anticipato di due anni l'introduzione di questa nuova riforma del backstop però sostanzialmente tutte le altre clausole come ad esempio le CAX eccetera eccetera non sono cambiate e sostanzialmente da parte di tutti gli esperti di economia tranne quelli politicizzati valutano in maniera positiva questa riforma del MES cioè si sta facendo effettivamente dei passi avanti per una integrazione economica non solo da livello bancario ma anche per rendere più sicuro il sistema economico anche a livello macroeconomico a livello di singoli stati a quanto pare però l'opinione pubblica attualmente è ancora rimasta al fatto di approvare la riforma del MES significa accettare il MES e entrare nelle condizioni del MES quindi entrare nella linea di credito del MES che purtroppo lo ripeto l'ennesima volta dopo un anno non pensavo che sarei ritornato allo stesso punto non significa questo accettare la riforma del MES non significa accettare una linea di credito del MES e quindi entrare in tutta una serie di condizioni del MES tra l'altro un'altra cosa interessante riguardo il MES è il fatto che dopo la definizione dell'Eurogruppo dell'approvazione della riforma che avverrà all'intorno verso fine gennaio dopo la successiva approvazione di ogni singolo Stato europeo da parte del Parlamento ad esempio in Italia come vi ho detto avverrà il 9 dicembre il fatto che una volta che l'Eurogruppo si è accordato per la riforma del MES sostanzialmente lo spread italiano non è aumentato quindi al momento il sistema finanziario i mercati valutano in maniera del tutto neutrale questa riforma del MES e quindi questo è un segnale per quelli che dicono che magari il MES dà un effetto negativo ai titoli di Stato oppure c'era anche quella corrente famosissima di cui abbiamo parlato molto spesso l'anno scorso sul fatto che se una procedura di ristrutturazione del debito diventa più sfagile allora il costo del debito aumenta in realtà come vi ho spiegato anche nel video di un anno fa praticamente è tutto il contrario se una ristrutturazione del debito diventa più facile allora anche i tassi di interesse diminuiscono perché per tutta una serie di condizioni ripeto andate a recuperare quel video se ve lo siete persi a quanto pare notizie degli ultimi giorni addirittura si pensa che potrebbe cadere il governo su questa storia del MES io la trovo totalmente ridicola e assurda ripeto la riforma del MES ci sta è corretta è un passo avanti verso l'integrazione non solo bancaria ma anche di consolidamento dei conti pubblici degli Stati europei e poi tra l'altro mi fa ridere perché prima propongono a destra manca la ristrutturazione e la cancellazione del debito e poi si spaventano per delle eventuali clausole sulla ristrutturazione del debito che potrebbero facilitarne per l'appunto questa operazione è tutto così assurdo io veramente a volte perdo la speranza nel mondo andiamo avanti ora invece parliamo di patrimoniale questa settimana non ci abbiamo proprio fatto mancare nulla perché abbiamo raggiunto anche un grande classico italiano la patrimoniale si può fare o su beni immobili su beni immobili sui beni immobili stiamo parlando ovviamente dei conti correnti degli italiani e tra l'altro in quest'anno dovuto al coronavirus la disponibilità dei conti correnti italiani è aumentata del 8% arrivando a un tasso di risparmio del 18,6% nel 2020 e quindi ci sarebbe da aggredire questi questi depositi se vogliamo molte persone pensano tra cui Fratoianni che è uno dei proponenti di questa patrimoniale il punto è che molto spesso i depositi sono così ricchi perché c'è un sistema finanziario poco efficiente che non riesce e anche una crescita economica bassa che non riescono a mobilizzare queste risorse finanziarie che gli italiani tengono a disposizione per ovviamente affrontare eventuali tempi di crisi eccetera eccetera ora la critica più grande alla patrimoniale è fatto soprattutto sugli depositi è quella della mobilità dei capitali cioè le persone possono tranquillamente spostare il proprio conto corrente dall'Italia a qualsiasi altra nazione europea per quanto riguarda invece i beni immobili e cioè stiamo parlando ad esempio degli edifici delle case eccetera eccetera beh l'assunzione di eh vabbè ma se hanno degli immobili che valgono basta venderli e così pagano le tasse beh è una assunzione totalmente semplicistica tra l'altro una patrimoniale sui beni immobili darebbe una pressione negativa riguardo il mondo dell'edilizia che è uno dei settori che ha subito molto fortemente questa crisi da coronavirus e che ormai da più di dieci anni dall'inizio della crisi del 2008 soffre particolarmente le con... soffre particolarmente insomma ma oltre a queste analisi tecniche il punto è perché è una patrimoniale proprio adesso tutte le più importanti istituzioni dalla commissione europea che no si è fatta la sua nomea in determinati contesti per la sua rigidità dei conti pubblici ma anche l'Ox e il Fondo Monetario Internazionale qualsiasi istituzione consiglia di continuare con l'espansione fiscale quindi di dare soldi alla gente anche con l'espansione monetaria e cercare di non restringere troppo questa espansione prima del dovuto e adesso vengono a parlarci di patrimoniale quindi andare nella direzione completamente opposta riguardo ai consigli delle più importanti istituzioni europee ed internazionali e ogni volta che si riaccende questo discorso della patrimoniale mi fa venire in mente un concetto molto famoso e cioè l'equivalenza ricardiana molto brevemente il concetto va a definire che un paese che utilizza la leva fiscale quindi fa una politica di bilancio espansiva in realtà ottiene molti meno risultati di quelli sperati perché i cittadini sanno che dovranno ripagare il debito che sta emettendo lo Stato e quindi ridurranno i consumi per poter poi avere in futuro delle risorse per ripagare le tasse che appunto dovranno ripagare questo debito ora in realtà questa equivalenza ricardiana è stata più volte criticata ma non vorrei addentrarmi in questo contesto il punto è che però ogni volta che si parla di patrimoniale mi viene in mente questa cosa e cioè che in momenti di crisi effettivamente poi lo Stato italiano fa tutto il contrario di quello che dovrebbe fare e quindi non introdurre molto spesso una politica fiscale espansiva ma stare sempre attenta a controllare i propri conti pubblici o comunque avere il terrore dei propri conti pubblici e questa è una cosa sicuramente negativa ed è un ulteriore effetto dell'avere un elevato debito pubblico e cioè quello di essere sempre imparanoiati di essere terrorizzati anche quando in realtà questo terrore non ha senso di esistere ho già spiegato questo concetto in un vecchio video di un mese fa quando parlavamo del debito pubblico però terrorizza magari e richiama sempre questo questo aspetto dei conti pubblici anche quando la politica fiscale dovrebbe essere del tutto opposta tra l'altro notizia di qualche giorno fa è che l'Ocse ha rivelato il carico fiscale dei paesi e noi abbiamo abbiamo avuto nel 2019 un carico fiscale pari al 42,4% contro un 41,9% nel 2018 e sapete quanto è la media Ocse del carico fiscale quindi quante tasse effettivamente paghiamo in rapporto al PIL la media Ocse è del 33,8% tutto ciò è fantastico infatti l'Italia è il quinto paese con il livello di tassazione più elevato all'interno dei paesi Ocse questo perché diciamo questo perché il problema non sono le poche tasse all'interno dell'Italia ma è come sono fatti tutto il sistema di tassazione italiano che è completamente distorto e magari più che una patrimoniale bisognerebbe ripoluzionare completamente tutto il sistema IRPEF di tassazione con questo discorso non voglio assolutamente negare un problema di disuguaglianza economica che si è ulteriormente approfondito a causa della crisi da coronavirus però ecco in momenti di crisi bisognerebbe più che altro cercare di uscire più in fretta possibile dalla crisi e poi nei momenti di crescere di crescita cercare di riequilibrare questa disuguaglianza sociale cercare di colmarla tramite tutta una serie di strumenti tra cui ad esempio un riduto di cittadinanza magari un po' più studiato meglio e più efficiente però in questo momento non vedo la patrimoniale come una soluzione assolutamente no per il prossimo tema parliamo di una non notizia che però è diventata notizia infatti qualche giorno fa è stato eletto il nuovo rettore della sapienza che è donna questa in realtà non dovrebbe essere una notizia però purtroppo lo è infatti sono solo sette le donne a capo di un ateneo universitario su 84 esistenti in Italia e qui ci da il là per parlare di un tema di cui purtroppo non mi sono occupato nel video riguardante il gender pay gap e cioè il soffitto di cristallo perché sì il soffitto di cristallo è un altro episodio che genera il gender pay gap il soffitto di cristallo è quel fenomeno per cui le donne molto spesso non riescono a raggiungere le posizioni più apicali della propria professione e da qui per l'appunto il concetto di soffitto di cristallo proprio perché vedono gli uomini arrivare fino a in cima alla propria organizzazione alla propria professione mentre loro rimangono sempre nei livelli più bassi per quanto riguarda ad esempio l'ambiente universitario le percentuali di donne che ottengono una laurea sono di più rispetto a quelle degli uomini infatti se sono il 34% le donne che posseggono un titolo di laurea universitaria di laurea per l'appunto sono solo il 22% gli uomini e se invece ad esempio il numero di ricercatrici e ricercatori è più o meno lo stesso in Italia se poi pian piano andiamo a scalare la gerarchia riguardo questa disciplina e man mano il gap aumenta arrivando addirittura a una percentuale di quasi 80% uomini 20% donne per quanto riguarda professori ordinari e questo è un problema molto evidente ed è un'altra caratteristica che evidenzia il gender pay gap che esiste e lo sottolineo perché molto spesso l'ho scoperto anche facendo quel video e leggendo i commenti ci sono molte persone che negano il gender pay gap quando in realtà esiste ed è costituito da n.000 fattori tra cui per l'appunto il soffitto di cristallo che dovremmo in qualche modo cercare di risolvere siamo entrati nel mese di dicembre e possiamo fare anche un bilancio riguardo il mese di novembre in particolar modo per quanto riguarda le borse infatti il mese di novembre è stato uno dei mesi più più importanti per quanto riguarda le borse che non hanno mai visto degli indici aumentare così tanto da parecchio tempo ad esempio nel Fizmib che sarebbe l'indice di borsa di Milano questa crescita non si è mai vista fin dal 1998 quando in realtà è nato per l'appunto il Fizmib e tutte anche le altre principali borse mondiali hanno avuto dei tassi di crescita che o non si sono mai visti prima o bisogna tornare indietro di parecchio tempo perché questa crescita enorme delle borse nonostante la seconda ondata di coronavirus sicuramente un fattore importante è stato quello delle elezioni americane che hanno tolto un dubbio ai mercati finanziari il secondo aspetto ovviamente è quello riguardo il vaccino che ha tolto qualsiasi ma parecchi non qualsiasi no parecchi dubbi riguardo il futuro dell'economia nei prossimi mesi ma soprattutto nel prossimo anno infatti prima del vaccino c'era un'enorme incertezza riguardo quando l'economia sarebbe potuta ritornare a dei momenti pre-covid però poi con la notizia del vaccino tutta questa incertezza è pressoché è sparita e quindi questo ha sicuramente aiutato soprattutto le grandi aziende che proprio nel mese di novembre fanno le previsioni per gli anni successivi hanno aiutato a dipingere un quadro futuro molto più roseo rispetto a quello sicuramente che avrebbero scritto magari nel solo mese di ottobre e quindi questo ha aiutato sicuramente l'espansione delle borse un altro fattore è quello che gli stati stanno promettendo ancora una politica fiscale e monetaria espansiva nonostante la scoperta del vaccino e questo ovviamente è un'ulteriore condizione che favorisce la crescita delle borse quanti titoli di stato ha acquistato la banca centrale europea fino ad adesso ce lo dice una nota dell'osservatore sui conti pubblici di carlo cottarelli infatti fino ad adesso la banca centrale europea tramite i suoi strumenti pspp e ppp ha acquistato 142 miliardi dei titoli di stato italiani in realtà di questi 142 miliardi 130 sono appartenenti alla banca d'italia mentre 12 direttamente dalla banca centrale europea quindi riprendendo il discorso di sassoli in realtà dovrebbe chiedere alla banca d'italia e non alla banca centrale europea di dover stralciare i titoli di stato questo però come abbiamo già detto risulterebbe come un buco di bilancio della banca d'italia che dovrebbe ripianare l'italia stessa e quindi questo è molto interessante tra l'altro la banca centrale europea lavora tramite delle capital key cioè praticamente se ad esempio la banca centrale europea compra 100 titoli di stato questi 100 titoli di stato vengono distribuiti tra tutte le nazioni appartenenti all'unione economica e monetaria tramite appunto una percentuale che ad esempio in italia equivale al 17% ora se la banca centrale europea avesse rispettato questa capital key i miliardi che avrebbe dovuto acquistare sarebbe fino ad adesso sarebbero dovuti essere 112 mentre in realtà sono per l'appunto come abbiamo detto 142 i miliardi acquistati fino ad adesso quindi significa che la banca centrale europea ci sta aiutando nì perché in realtà questi scostamenti dalla capital key sono fatti non per un fatto di fapore nei confronti dell'italia ma per degli studi fatti internamente alla banca centrale europea in modo tale da rendere la politica monetaria efficace da parte di tutti gli stati e non è detto che magari nei prossimi mesi la banca centrale europea può anche tranquillamente rientrare da questo scostamento e quindi nei prossimi mesi acquistare più titoli di stati ad esempio tedeschi cosa ad esempio che non sta facendo adesso rispetto a quelli italiani e quindi rientrare nella propria capital key però in questo momento ad esempio sì la banca centrale europea sta acquistando più del dovuto e la gran parte dei titoli di stato è detenuta dalla banca d'italia ora passiamo alle previsioni dell'istat infatti qualche giorno fa ha rivisto al ribasso la crescita economica italiana per il 2020 se infatti nello scenario primaverile indicava una crescita economica per il 2020 pari almeno 8,3% quest'anno e del più 4,6% nel 2021 invece adesso come abbiamo detto rifatto questo scenario in negativo però infatti adesso è previsto per il 2020 una decrescita dell'8,9% mentre per l'anno prossimo una crescita del 4% e quindi diciamo che l'impatto della seconda ondata sicuramente ha contribuito a peggiorare queste statistiche per quanto riguarda l'Italia nell'ultimo Ecofin non si è parlato solo di MES infatti è stata accettata una proposta dalla commissione europea che risaliva al luglio 2020 stiamo parlando del fatto che in futuro Google Facebook Airbnb o comunque tutte le principali piattaforme digitali potrebbero diventare dei collaboratori fiscali dell'Unione Europea in questo caso queste grandi piattaforme digitali dovrebbero dare i dati dei loro utenti alle amministrazioni fiscali in modo da ottenere le informazioni sulle transazioni effettuate sui propri siti sulle proprie piattaforme di quali transazioni stiamo parlando stiamo parlando di affitto di beni immobili fornitura di servizi vendita di beni affitto di mezzi di trasporto investimenti e prestiti nell'ambito del crowdfunding questa proposta questa che poi diventerà una direttiva dovrebbe aiutare ovviamente l'evasione fiscale prodotta nei principali piattaforme online e quindi appunto Google Facebook Airbnb e tutto il resto e addirittura c'è il rischio che se una determinata impresa non dovesse adeguarsi a questa direttiva non potrebbe addirittura commercializzare all'interno dell'Unione Europea le informazioni che queste aziende dovranno inviare alle amministrazioni fiscali includono le generalità dei venditori incluso il codice fiscale o il numero di partita IVA oltre al dettaglio di tutti gli importi pagati ogni trimestre signori siamo alla fine di questa puntata è la prima puntata quindi c'è tanto da migliorare e magari se mi date qualche feedback tra i commenti su YouTube o attraverso i contatti social su Instagram in particolar modo potrei migliorare ancora di più questo format però pian piano cercheremo di alzare il livello e la qualità di questa nuova iniziativa di Whatsapp Economy spero che comunque sia stato di vostro gradimento il primo episodio nonostante probabilmente gli innumerevoli difetti che ha tuttora essendo un progetto appena nato colgo l'occasione per ringraziare gli abbonati che mi sostengono giornalmente con il loro supporto e rendono questo show possibile se volete abbonarvi anche voi tutte le informazioni basta andare sul profilo del canale YouTube dei Whatsapp Economy e troverete il tasto abbonati e poi tutti i vantaggi che potrete soffrire grazie appunto al programma abbonamenti non mi dilungo ulteriormente perché se abbiamo raggiunto la mezz'ora di puntata vediamo studiamo insieme cerchiamo di migliorare insieme questo format e sperare di renderlo il più interessante e digeribile possibile detto ciò vi saluto e alla prossima settimana con il nuovo recappone della settimana economica e niente vi saluto ciao ciao